Radio Ucifocus In caso in cui i relativi lavori per l'installazione rientrino nei lavori di efficientamento energetico qualificati come trainanti. Invece, nel caso in cui la sostituzione del condizionatore non sia legata ad un intervento trainante del Superbonus 110%, si potrà sfruttare la naturale detrazione fino al 65% in caso di acquisto di un condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per la sostituzione di uno di classe inferiore. L'accesso alla misura agevolativa è vincolato al miglioramento di almeno due classi energetiche degli edifici coinvolti negli interventi o ai lavori che garantiscono il conseguimento della classe energetica più alta da certificare attraverso l'attestato di prestazione energetica. E dalla redazione è tutto al prossimo aggiornamento.